Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a trattare del funzionamento delle informazioni. Dopo che fu definitivamente dimostrato l'effettivo ruolo del DNA, la prima cosa da chiarire fu come questo potesse codificare delle informazioni. La parte variabile del DNA è costituita dalle quattro basi azotate, quindi si può supporre che sia la loro successione o meglio la successione dei nucleotidi a codificare le informazioni. Non dobbiamo pensare che la limitazione a sole quattro variabili condizioni la quantità di informazioni, basta pensare che l'enorme quantità di dati gestiti da un computer è codificata da due soli valori possibili, 0 e 1. Infatti non è tanto importante il numero delle singole varianti, ma le loro combinazioni. Così come nel linguaggio, per esempio, le 21 lettere sono variamente organizzate tra di loro e più lettere formano una parola, più parole una frase e più frasi un periodo. Non sono quindi le singole lettere a fornire le informazioni, ma è la loro combinazione. Nel linguaggio la parola costituisce la cosiddetta unità minima di informazione, quella al di sotto della quale non si ha un significato. Ma quindi qual è il suo corrispondente sul DNA? In altre parole, di quanti nucleotidi è composta una parola sul DNA? Per rispondere a questa domanda bisognerebbe sapere però a che cosa servono queste informazioni. Nel 1958 i genetisti americani George Beedle ed Edward Tatum ipotizzarono che l'espressione di un gene potesse avvenire tramite un enzima. Per dimostrarlo utilizzarono la muffa del pane, la Neospora crassa. Fecero crescere la muffa su un terreno di coltura minimo dal punto di vista nutrizionale, cioè contenente soltanto zucchero, sali minerali e una vitamina. In questo terreno Neospora è in grado di crescere normalmente, perché possiede gli enzimi che sono capaci di fabbricare tutto ciò di cui ha bisogno. Vidal e Tatum utilizzarono i raggi X, riuscirono ad ottenere alcuni mutanti di Neospora che necessitano dell'aggiunta di diversi composti al terreno minimo. E poiché era noto che i raggi X provocassero delle alterazioni nel DNA, i due ricercatori dimostrarono che in ogni mutante si erano danneggiate le informazioni necessarie per la produzione di uno specifico enzima. Grazie a questo esperimento i biologi si resero conto che le proteine non erano poi del tutto escluse dal flusso di informazioni, perché il DNA non controlla direttamente le caratteristiche dell'organismo, ma affida il compito alle proteine. Tutte le funzioni e le strutture cellulari sono a carico delle proteine. Una proteina è costituita da una successione di amminoacidi e perché funzioni correttamente occorre che tutti questi siano al posto giusto, inseriti secondo un ordine non casuale. Spesso, infatti, basta un solo amminoacido sbagliato perché la proteina non funzioni più correttamente. Per esempio, nell'emoglobina il cambiamento di uno solo degli oltre 500 amminoacidi che la costituiscono può essere sufficiente a renderla non più funzionante, ed è il caso della malattia dell'anemia falciforme, così chiamata perché i globuli rossi con l'emoglobina difettosa assumono una forma a falce. Si può capire allora come non si è possibile, per costruire una proteina funzionante, montare gli amminoacidi a caso con la speranza di azzeccare la combinazione giusta. Supponiamo per esempio di dover costruire una proteina di soli 10 amminoacidi che, come vedremo tra poco, possono essere scelti tra 20 tipi diversi. Se questi dovessero essere ordinati a caso, si avrebbero ben 20 alla 10 possibilità, che sarebbero circa 10.000 miliardi, quindi veramente troppe per poter essere provate tutte nella speranza di riuscire a trovare quella giusta. Non resta allora che ricorrere ad un progetto, ovvero ad un piano di costruzione su cui riferirsi. Infatti, solo seguendo delle istruzioni per così dire di montaggio, la cellula riesce a fabbricare proteine funzionanti senza sprecare enormi quantità di tempo e di energia, mentre in mancanza di queste informazioni la cellula non potrebbe praticamente sintetizzare nessuna proteina utile. Ed ecco quindi la vera funzione del DNA, cioè fornire le informazioni necessarie alla corretta costruzione di una proteina. Poiché le informazioni del DNA servono alla produzione delle proteine, l'unità minima di informazione deve corrispondere ad un aminoacido. In questo modo la successione dei nucleotidi potrebbe corrispondere alla successione degli aminoacidi, però gli aminoacidi da codificare sono 20, mentre i nucleotidi sono soltanto 4. Di conseguenza non si può avere una corrispondenza di 1 a 1, ovvero un singolo nucleotide che corrisponde ad un singolo aminoacido. Se così fosse potremmo costruire delle proteine con soltanto 4 aminoacidi. Proviamo quindi a considerare i nucleotidi a coppie, cioè due nucleotidi consecutivi che determinano un singolo aminoacido. Ma neppure in questo caso le cose possono funzionare, perché con 4 nucleotidi si formano soltanto 16, cioè 4 alla seconda, coppie differenti. Se ne conclude allora che il numero minimo di nucleotidi necessari per codificare un singolo aminoacido è di 3. Infatti con 3 di essi è possibile comporre ben 64, ovvero 4 alla terza, diverse triplette, che sono molte di più di quante ne occorrono. La tripletta o codone è l'unità minima di informazione e il tratto di DNA che contiene le informazioni complete per la costruzione di una proteina è detto gene. L'intero DNA è dunque una successione di geni che codificano per delle proteine di vario tipo. I geni esplicano la loro attività attraverso le proteine e tra queste le più indicate all'inizio sembravano essere le proteine a carattere funzionale, ovvero gli enzimi. Prendiamo per esempio il gene che controlla il colore del fiore nelle piante. Esso funziona in modo da determinare la produzione di un enzima in grado di produrre un pigmento colorato. Questo concetto fu efficacemente sintetizzato nell'espressione un gene un enzima. Ben presto però ci si rese conto che i geni dovevano dirigere non solo la sintesi degli enzimi ma anche quella delle proteine strutturali. Per comprendere anche quest'ultime l'espressione venne allora modificata in un gene una proteina o meglio una catena polipeptidica perché alcune proteine sono costituite da più sequenze di amminoacidi ciascuna delle quali codificata da un singolo gene. Oggi sappiamo che questa affermazione non è del tutto veritiera poiché si conoscono molti geni che non determinano alcuna proteina. Detto questo finisce la prima parte di questo video sul funzionamento delle informazioni. All'interno del prossimo video tratteremo del codice genetico e di tutto il processo della sintesi proteica. Vi ricordo che sul canale è già uscito il video sulla trascrizione quindi vi consiglio di recuperarlo perché sarà utile per il prossimo video. Per il momento è quindi tutto. Grazie per l'attenzione e a presto!